Sabato scorso Radio Favara 101 ha festeggiato il suo 34esimo compleanno. L'evento è stato ricordato da tutti coloro che attualmente collaborano con la prima emittente radiofonica della città di Favara. La radio fu fondata il 20 marzo 1976 dal frate francescano Pacifico Nicosia e attualmente è diretta da Don Diego Acquisto. Da allora dai microfoni degli studi ubicati presso la collina San Francesco si sono susseguiti due generazioni di speaker che hanno intrattenuto a vario titolo i radioascoltatori di un'ampia parte della nostra provincia e anche oltre. Come dimenticare ad esempio le denunce civiche del compianto di Lillolentini che dalle frequenze radiofoniche entrava nelle case dei Favaresi con il suo tormentone? Ci un miso lo semaforo Konzu? Noi per l'occasione abbiamo voluto sentire la voce di chi il radio ci lavora da diversi anni. 34 anni decorrono proprio da quando i fratelli francescani hanno deciso di ospitare la radio in questa struttura che poi negli anni si è arricchita perché la struttura come voi naturalmente abitanti, i nostri concittadini sapete, la struttura ha anche un teatro, ci sono delle associazioni che sono ospitati, c'è un bellissimo naturalmente convento che ha un chiostro all'interno dove spesso noi d'estate organizziamo delle manifestazioni. Qualcuno di voi ricorderà anche Padre Pacifico, Padre Pacifico è stato, Pacifico Nicosia, proprio la persona più importante di questi 34 anni che a capo di questa struttura ha tenuto naturalmente tutto ben benino e ha permesso che questi 34 anni sono passati bene. La radio ha resistito e la radio ancora oggi anzi si è arricchita con magari mezzi che sicuramente voi avete già inquadrato, più moderni per far fruire ai nostri concittadini anche tutti i servizi tra i migliori, le notizie naturalmente in presa diretta. Col passare del tempo anche le radio si sono dovute adeguare alle esigenze delle nuove generazioni di ascoltatori. Infatti sono finiti i tempi delle vecchie radio al transistor, basta con gli spostamenti delle antennine e alla ricerca di una sintonizzazione perfetta. Oggi la radio si ascolta anche su internet, consentendo così a chiunque di poter ascoltare la sua emittente preferita da qualsiasi parte del mondo esso si trovi. La 34enne 101 è stata festeggiata con una magnifica torta riportando il logo della radio. I festeggiamenti si sono conclusi con un concerto svoltosi proprio presso gli studi del 101. Sicilia TV augura un felice compleanno agli amici del Radio Favara 101. 34 anni, la mia stessa età. Beh, quando ho iniziato appena 20 anni fa, ma ti rendi conto? Era il 1989. Com'è cambiata? Beh, a livello tecnologico tantissimo, perché mi ricordo i miei primi programmi con il giradischi e allora ti mettevi lì, tipo, come si vede ancora qualche DJ con i 33 giri e i 45 giri, ad aprire questi armadi che sono dietro di noi, sono ancora stracolmi di un archivio storico di cui fa parte Radio Favara 101. 33 giri che sono assolutamente introvabili. Allora ti mettevi lì a spazzolarli, a togliere un po' di polvere, ad ascoltare, a mettere un po' mezzo giro indietro e lì partiva il brano con l'intro che ti immaginavi. Adesso è tutto diverso con l'alta tecnologia di cui fa parte anche Miriam, insomma, ha iniziato con i computer, un po' più facile, diciamo, forse, eh? O no? Ma dal punto di vista tecnologico la radio è cambiata tanto, per fortuna si è evoluta, ma noi parliamo dal punto di vista umano perché siamo cresciuti tanto con la radio, perché noi siamo cresciuti davvero all'interno di questa bellissima e accogliente struttura. Sono 34 anni di soddisfazioni, di successi, di grandi emozioni che ci ha regalato la radio e che speriamo di aver trasmesso a quanti numerosi ci hanno ascoltato.